Si è concluso con assoluzioni e proscioglimenti di tutti e 66 gli imputati il procedimento in udienza preliminare sui farsi invalidi con contestuale e presunta maxitruffa all'Inpsa Tribunale di Ragusa. L'ex parlamentare regionale Innocenzo Leontini e l'ex deputato Riccardo Minardo sono stati assolti perché il fatto non sussiste, quindi con la formula più piena. Entrambi avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Leontini, Minardo e gli altri coimputati, tra cui sette medici pure loro assolti, dovevano rispondere di associazione per delinquere e truffa aggravate in concorso. La sentenza è stata retta in aura dal gruppo Claudio Maggioni a termine della Camera di Consiglio. Anche per gli altri coimputati, che avevano scelto il rito ordinario, come accennato, il giudice ha deciso per il non luogo a procedere in relazione ai reati a ciascuno di loro ascritti, sempre con la formula perché il fatto non sussiste. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro tre mesi. La presunta truffa all'Inps, stando alle indagini, si sarebbe concretizzata nella concessione in debita di pensioni di invalidità che non sarebbero spettate a coloro che ne avevano fatto richiesta sulla base di presunte dichiarazioni mendaci tramite il presunto input di politici e medici. Era stata contestata pure l'accusa di falso ideologico, in particolare per il riconoscimento di invalidità civili. Il reato era riferito al presunto aggiustamento delle graduatorie, in cui spesso i reali aventi diritto si sarebbero trovati scavalcati da altri richiedenti. Complessivi cinque anni e quattro mesi di reclusione erano stati chiesti lo scorso giugno dalla pubblica accusa al termine della requisitoria per i due imputati di spicco del processo, ovvero i già citati ex esponenti politici Minardo e Leontini. Per il primo la richiesta di condanna a due anni era stata avanzata solo per il reato associativo, mentre per tutti gli altri capi di imputazione era stata invocata la soluzione. Per Leontini invece il PM aveva chiesto tre anni e quattro mesi di reclusione, sempre per il reato associativo, nonché per le singole presunte truffe. Le indagini della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione Guido Tersilli, dal nome del personaggio interpretato da Alberto Soddi in un film su un medico della mutua, facevano riferimento pure a presunti episodi, verificatisi addirittura nel 2004. Il numero degli indagati era originariamente di 197. Grazie!